Anni dopo, nel suo letto di agonia, Aureliano II si sarebbe ricordato del piovigginoso pomeriggio di giugno in cui entrò nella stanza da letto per conoscere il suo primo figlio. Benché fosse languido e piagnucolone, senza niente di un buendia, lui non ci pensò su due volte a dargli il nome. «Si chiamerà Giuse Arcadio», disse. Fernanda del Carpio, la bella donna con la quale si era sposato l'anno prima, fu d'accordo. Invece Ursula non potece lare un vago senso di inquietudine. Nella lunga storia della famiglia, la tenace ripetizione dei nomi le aveva permesso di trarre conclusioni che le sembravano decisive. Mentre gli Aureliani erano riservati, ma con discernimento lucido, i Giuse Arcadio erano impulsivi e intraprendenti, ma erano marcati da un segno tragico. Gli unici casi di impossibile classificazione erano quelli di Giuse Arcadio II e Aureliano II. Erano così somiglianti e turbolenti durante la loro infanzia che nemmeno la stessa Santa Sofia della Piedad poteva distinguerli. Il giorno del battesimo, Amaranta mise loro dei bracciali coi rispettivi nomi e li vestì con roba di colori diversi marcata con le iniziali di ognuno. Ma quando cominciarono a frequentare la scuola, decisero di cambiarsi la roba e i bracciali e di chiamarsi loro stessi l'uno col nome dell'altro. Il maestro Melcore Scalona, abituato a riconoscere Giuse Arcadio II dalla camicia verde, perse le staffe quando scoprì che questi aveva il bracciale di Aureliano II e che l'altro diceva di chiamarsi comunque Aureliano II, nonostante avesse la camicia bianca e il bracciale col nome di Giuse Arcadio II. Da allora non si seppe più chi fossero con certezza. Anche quando crebbero e la loro vita li rese differenti, Ursula continuava a chiedersi se loro stessi non avessero per caso commesso un errore in un momento qualsiasi del loro intricato gioco di confusioni e non fossero rimasti scambiati per sempre. Fin dall'inizio dell'adolescenza erano stati due meccanismi sincroni. Si svegliavano alla stessa ora, sentivano il bisogno di andare al gabinetto nello stesso momento, soffrivano degli stessi disturbi e sognavano perfino le stesse cose. In casa dove si credeva che coordinassero le loro azioni per il semplice desiderio di confondere, nessuno si rese conto della realtà finché un giorno Santa Sofia della Piedad diede a uno di loro un bicchiere di limonata e questo fece meno in fretta ad assaggiarla che l'altro a dire che non c'era zucchero. Santa Sofia della Piedad, che in realtà si era dimenticata di mettere lo zucchero nella limonata, raccontò la cosa a Ursula. «Sono tutti così», disse lei senza meravigliarsi, «pazzi dalla nascita». Il tempo finì per scompigliare le cose. Quello che nei giochi di confusione rimase col nome di Aureliano II si fece monumentale come il nonno e quello che rimase col nome di Giuse Arcadio II si fece ossuto come il colonnello. E l'unica cosa che conservarono in comune fu l'aspetto solitario della famiglia. Forse fu quell'incrocio di stature, di nomi e di caratteri a far sospettare a Ursula che fossero stati scambiati fin dall'infanzia. La differenza decisiva si rivelò in piena guerra quando Giuse Arcadio II chiese al colonnello Gerineldo Marquez di portarlo a vedere le fucilazioni. Contro il parere di Ursula i suoi desideri furono soddisfatti. Aureliano II invece tremava sul pensiero di assistere a una esecuzione. Preferiva la casa. A dodici anni chiese a Ursula cosa c'era nella stanza chiusa. «Carte», gli rispose lei. «Sono i libri di Melchiades e le cose strane che scriveva nei suoi ultimi anni». La risposta invece di tranquillizzarlo aumentò la sua curiosità. Insistette tanto, promise con tanto calore di non sciupare le cose che Ursula gli diede le chiavi. Nessuno era più entrato nella stanza da quando avevano portato fuori il cadavere di Melchiades e messo il lucchetto le cui parti si erano saldate con la ruggine. Ma quando Aureliano II aprì le finestre entrò una luce familiare che sembrava avvezza, illuminare la stanza a tutti i giorni. E non c'era la minima traccia di polvere o di ragnatele. Ma al contrario, tutto era scopato e pulito. Più scopato e più pulito del giorno dei funerali. E l'inchiostro non si era seccato nel calamaio, né l'ossido aveva alterato la lucidità dei metalli, né si era estinta la brace della Tanor, dove Giuse Arcadio Buendia aveva vaporizzato il mercurio. Negli scaffali c'erano i libri rilegati in una materia in carta pecorita e pallida come la pelle umana conciata e c'erano i manoscritti intatti. Nonostante il chiuso di molti anni, l'aria sembrava più pura che nel resto della casa. Tutto era così fresco che parecchie settimane dopo, quando Ursula entrò nella stanza con un secchio d'acqua e una scopa per lavare il pavimento, non ebbe niente da fare. Aureliano II era assorto nella lettura di un libro, benché fosse privo di copertina e non si scorgesse il titolo da nessuna parte, il bambino si godeva la storia di una donna che si sedeva a tavola e mangiava soltanto grani di riso che infilava con aghi e la storia del pescatore che chiese in prestito al suo vicino un pezzo di piombo per la sua rete e il pesce col quale lo ricompensò più tardi aveva un diamante nello stomaco e della lampada che soddisfaceva i desideri e delle stuoie che volavano. Meravigliato chiese a Ursula se era tutto vero e lei gli rispose di sì, che molti anni prima gli zingari portavano a Macondo le lampade meravigliose e le stuoie volanti. Il fatto è, sospirò, che il mondo sta finendo a poco a poco e ormai quelle cose non vengono più. Quando finì il libro, molte storie delle quali erano incompiute perché mancavano le pagine, Aureliano II si dedicò al compito di decifrare i manoscritti. Fu impossibile. Le lettere sembravano roba messa ad asciugare su un filo di ferro e somigliavano più alla scrittura musicale che a quella letteraria. In un pomeriggio ardente, mentre scrutava i manoscritti, sentì di non essere solo nella stanza. Contro il riverbero della finestra, seduto con le mani sulle ginocchia, c'era Melchiades. Non aveva più di quarant'anni. Portava lo stesso panciotto anacronistico e il cappello ad ali di corvo e dalle sue tempie pallide gocciolava l'unto dei capelli sciolti dal caldo, come lo avevano visto Aureliano e Giuse Arcadio quando erano bambini. Aureliano II lo riconobbe subito perché quel ricordo ereditario si era trasmesso di generazione in generazione e era arrivato a lui dalla memoria di suo nonno. «Salve!» disse Aureliano II. «Salve, giovane!» disse Melchiades. Da quel momento, per diversi anni, si videro quasi tutti i pomeriggi. Melchiades gli parlava del mondo, cercava di infondergli la sua vecchia saggezza, ma si rifiutò di tradurre i manoscritti. «Nessuno deve conoscere il loro significato finché non saranno passati cento anni!» spiegò. Aureliano II conservò per sempre il segreto di quei colloqui. Una volta sentì crollare il suo mondo privato perché Ursula entrò nel momento in cui Melchiades era nella stanza. Ma lei non lo vide. «Con chi stai parlando?» gli chiese. «Con nessuno!» disse Aureliano II. «Così era il tuo bisnonno!» disse Ursula. «Anche lui parlava da solo!» Nel frattempo Giuse Arcadio II aveva soddisfatto la voglia di assistere a una fucilazione. Per il resto della sua vita si sarebbe ricordato della fiammata livida dei sei spari simultanei e l'eco dello scoppio che si era affrantumato nei boschi e il sorriso triste e lo sguardo perplesso del fucilato che era rimasto eretto mentre la camicia gli si inzuppava di sangue e continuava a sorridere anche quando lo slegarono dal palo e lo misero in una cassa piena di calce. «È vivo!» pensò il ragazzo. «Lo seppelliscono vivo!» Si impressionò tanto che da quel momento detestò le pratiche militari e la guerra, non tanto per le esecuzioni quanto per la spaventosa abitudine di sotterrare vivi i fucilati. Nessuno seppe allora quando avesse cominciato a suonare le campane in chiesa e aiutare padre Antonio Isabel, successore del cucciolo ad Irmessa, e ad allevare galli di combattimento nel patio della casa parrocchiale. Quando il colonnello Gerineldo Marquez lo venne a sapere, lo rimproverò duramente perché stava imparando mestieri ripudiati dai liberali. «La questione», rispose lui, «è che a me sembra ad essere sortito conservatore». Lo credeva come se fosse una decisione del fatto. Il colonnello Gerineldo Marquez, scandalizzato, lo disse a Ursula. «Tanto meglio!» approvò lei. «Magari diventasse prete perché Dio entri finalmente in questa casa». Ben presto si seppe che il padre Antonio Isabel lo stava preparando per la prima comunione. Gli insegnava il catechismo mentre rasava il collo dei galli. Gli spiegava, con semplici esempi, mentre mettevano nei loro nidi le galline da cova, come era venuto in mente a Dio nel secondo giorno della creazione che i pulcini si formassero dentro l'uovo. Fin da allora manifestava il parroco i primi sintomi del delirio senile che gli fece dire qualche anno più tardi che nella ribellione contro Dio probabilmente aveva vinto il diavolo e che era il diavolo che stava seduto sul trono celeste, anche se per intrappolare gli incauti non rivelava la sua vera identità. Ingagliardito dalla intrepidità del suo precettore, Giuseppe Arcadio II riuscì in pochi mesi a essere altrettanto dotto in marchi ingegni teologici per confondere il demonio, quanto abile nei trucchi dell'allevamento dei galli. Amaranta gli fece un vestito di lino col colletto e cravatta, gli comprò un paio di scarpe bianche e ricamò il suo nome in lettere dorate sul nastro del cero. Due notti prima della comunione, padre Antonio Isabel si chiuse con lui nella sacrestia per confessarlo con l'aiuto di un dizionario di peccati. Fu un elenco così lungo che il vecchio parroco, abituato ad andare a letto alle sei, si addormentò nella poltrona prima di finire. L'interrogatorio fu per Giuseppe Arcadio II una rivelazione. Non lo sorprese che il padre gli chiedesse se aveva fatto cose brutte con donne e rispose onestamente di no, ma si sconcertò quando gli chiese se le aveva fatte con animali. Il primo venerdì di maggio si comunicò, torturato dalla curiosità. Più tardi rivolse la domanda a Petronio, il sagrestano malaticcio che vivevano nel campanile e che, a quanto dicevano, si alimentava di pipistrelli. E Petronio gli rispose «Ci sono dei cristiani corrotti che fanno le loro cose con le asine». Giuseppe Arcadio II continuò a dimostrare tanta curiosità, chiese tante spiegazioni che Petronio perse la pazienza. «Io vado tutti martedì notte», confessò. «Se prometti di non dirlo a nessuno, il prossimo martedì ti ci porto». Il martedì seguente, in effetti, Petronio scese dal campanile con uno sgabello di legno che, fino a quel momento, nessuno aveva saputo a cosa servisse e portò Giuseppe Arcadio II in un orto vicino. Il ragazzo si appassionò tanto a quelle incursioni notturne che trascorse parecchio tempo prima che lo si vedesse nella bottega di Catarino. Si fece uomo di galli. «Portati quegli animali da un'altra parte!» gli ordinò Ursula la prima volta che lo vide entrare con i suoi eleganti animali da combattimento. «I galli hanno già portato abbastanza amarezza in questa casa, senza che tu venga a portarne delle altre!» Giuseppe Arcadio II se li portò via senza discutere, ma continuò ad allivarli da Pilar Ternera, sua nonna, che mise a sua disposizione quanto aveva bisogno pur di tenerselo in casa. Ben presto dimostrò nell'arena dei galli la sapienza che gli aveva infuso padre Antonio Isabel e dispose di denaro a sufficienza non solo per arricchire il suo allevamento, ma per procurarsi soddisfazioni da uomo. Ursula lo paragonava in quel tempo a suo fratello e non poteva capire come i due gemelli che sembravano una sola persona durante l'infanzia avevano finito per essere così diversi. La perplessità non le durò a lungo, perché assai presto Aureliano II cominciò a dare mostra di poltroneria e di dissipatezza. Fin quando rimase rinchiuso nella stanza di Melchiades fu un uomo introverso, come lo era stato il colonnello Aureliano Buendia da giovane, ma poco prima del trattato di Neerlandia un caso lo tosse dal suo raccoglimento e lo mise di fronte alla realtà del mondo. Una donna giovane, che andava vendendo numeri con la riffa di una fisarmonica, lo salutò con molta familiarità. Aureliano II non si meravigliò, perché capitava frequentemente che lo scambiassero per suo fratello, ma non chiarì l'equivoco. Nemmeno quando la ragazza cercò di intenerirgli il cuore con piagnucolii e finì per portarlo nella sua stanza. Gli prese a voler così bene fin da quel primo incontro che imbrogliò la riffa per fargli vincere la fisarmonica. In capo a due settimane, Aureliano II si rese conto che la donna era andata a letto alternativamente con lui e con suo fratello, credendo che fossero lo stesso uomo, e invece di mettere in chiaro la situazione, fece in modo di prolungarla. Non tornò nella stanza di Melchiades. Passava tutti i pomeriggi nel patio, imparando a suonare a orecchio la fisarmonica, malgrado le pretese di Ursula, che in quel tempo aveva proibito la musica in casa per via dei lutti e che inoltre disprezzava la fisarmonica ritenendola uno strumento adatto ai vagabondi eredi di Francisco e l'Ombre. Ciò nonostante, Aureliano II riuscì a diventare un virtuoso di fisarmonica e continuò a esserlo dopo sposato, dopo aver avuto figli ed essere diventato uno degli uomini più rispettati di Macondo. Per quasi due mesi divise la donna con suo fratello. Lo sorvegliava, gli mandava all'aria i progetti e quando era sicuro che Giuseppe Arcadio II non sarebbe andato quella notte dall'amante comune, scappava a dormire con lei. Una mattina scoprì di avere una malattia. Due giorni dopo trovò suo fratello aggrappato a una trave del bagno, inzuppato di sudore e grondante lacrime cocenti e allora comprese. Suo fratello gli confessò che la donna lo aveva ripudiato accusandolo di averla contagiata con quella che lei chiamava una malattia della malavita. Gli raccontò anche come cercava di curarlo Pilar Ternera. Aureliano II si sottoppose di nascosto ai brucianti lavacredi per manganato e alle acque diuretiche e ambe due guarirono separatamente dopo tre mesi di sofferenze segrete. Giuseppe Arcadio II non tornò mai più dalla donna. Aureliano II impetrò il suo perdono e se la tenne fino alla morte. Si chiamava Petra Cotes. Era arrivata a Macondo in piena guerra, con un marito occasionale che viveva delle riffe e quando l'uomo morì, lei continuò il mestiere. Era una mulatta pulita e giovane, con occhi gialli e a mandorla, che davano al suo volto la ferocia di una pantera, ma aveva un cuore generoso e una magnifica vocazione per l'amore. Quando Ursula si rese conto che Giuseppe Arcadio II era allevatore di Galli e che Aureliano II suonava la fisarmonica nelle feste chiassose della sua concubina, credette di impazzire di sgomento. Era come se nei due giovani si fossero concentrati i difetti della famiglia e nessuna delle sue virtù. Allora decise che nessun altro si sarebbe chiamato Aureliano e Giuseppe Arcadio. Ciò malgrado quando Aureliano II ebbe il suo primo figlio, non osò contrariarlo. D'accordo, disse Ursula, ma a una condizione, mi incarico io di allevarlo. Benché fosse già centenaria e sul punto di diventare cieca per le cataratte, conservava intatto il dinamismo fisico, l'integrità del carattere e l'equilibrio mentale. Nessuno, meglio di lei, per allevare l'uomo virtuoso che avrebbe restaurato il prestigio della famiglia, un uomo che non avesse mai sentito parlare né di guerra, né di galli da combattimento, né di donne di malaffare, né di imprese deliranti. Quattro calamità che, secondo quanto pensava Ursula, avevano determinato la decadenza della sua stirpe. Questo sarà prete, promise solennemente, e se Dio mi dà vita, deve arrivare a essere papa. Tutti risero a sentirla, non solo nella stanza, ma in tutta la casa, dove stavano riuniti i turbolenti amiconi di Aureliano II. La guerra, relegata nella soffitta dei brutti ricordi, fu momentaneamente evocata dai botti dello champagne. «Alla salute del papa!» brindò Aureliano II. Gli invitati brindarono in coro. Poi il padrone di casa suonò la fisarmonica, scoppiarono i petardi e si ordinarono tamburi di giubilo nel villaggio. Quando spuntò il giorno, gli invitati inzuppati dello champagne sacrificarono sei vacche e le misero in strada a disposizione della folla. Nessuno si scandalizzò. Da quando Aureliano II si era preso a carico la casa, quei festeggiamenti erano all'ordine del giorno, benché non esistesse motivo più giusto di quello della nascita di un papa. In pochi anni, senza sforzi, solo a furia di colpi di fortuna, aveva accumulato una delle più grandi ricchezze della palude grazie alla prolificazione soprannaturale delle sue bestie. Le sue giumente partorivano trigemini, le galline facevano le uova due volte al giorno e i maiali ingrassavano con tale sfrenatezza che nessuno poteva spiegarsi tanta disordinata fecondità se non per l'uso di arti magiche. Economizza ora, diceva Ursula al suo sventato bisnipote. Questa fortuna non ti durerà per tutta la vita. Ma Aureliano II non le dava retta. Quanto più champagne stappava per inzupparvi i suoi amici, tanto più pazzescamente partorivano le sue bestie e tanto più si convinceva che la sua buona stella non era questione della sua condotta ma influsso di Petra Cotès, la sua concubina, il cui amore aveva la virtù di esacerbare la natura. Era così persuaso che quella fosse l'origine della sua fortuna che non tenne mai Petra Cotès lontana dai suoi allevamenti e anche quando si sposò ed ebbe figli continuò a vivere con lei col consenso di Fernanda. Solido, monumentale come i suoi nonni ma con una gioia di vivere una simpatia irresistibile che loro non avevano avuto, Aureliano II non riusciva quasi a badare a tutte le sue mandrie. Gli era sufficiente portare Petra Cotès nei suoi allevamenti e farla passeggiare a cavallo per le sue terre perché ogni animale marcato col suo ferro succombesse alla peste irrimediabile della prolificazione. Come tutte le cose buone che gli capitarono nella sua lunga vita, quella fortuna esorbitante ebbe origine dal caso. Fino al termine delle guerre, Petra Cotès continuò a sostentarsi col prodotto delle sue riffe e Aureliano II si arrangiava saccheggiando di tanto in tanto i salvadanai di Ursula. Formavano una coppia frivola, senza altre preoccupazioni che quella di fare all'amore tutte le notti anche nelle date proibite e sollazzarsi nel letto fino allo spuntare del giorno. «Quella donna è stata la tua perdizione» gritava Ursula al bisnipote quando lo vedeva entrare in casa come un sonnambulo. «Ti ha così stupidito che un giorno di questi ti vedrà torcerti dalle coliche con un rospo dentro la pancia». Giuseppe Arcadio II che ci mise parecchio tempo per scoprire il soppiantamento non riusciva a capire la passione di suo fratello. Ricordava Petra Cotès come una donna qualunque piuttosto pigra a letto e del tutto sprovvista di risorse per l'amore. Sordo ai rimbrotti di Ursula e agli scherni di suo fratello allora Aureliano II pensava soltanto a trovare un'occupazione che gli permettesse di sobbarcarsi una casa per Petra Cotès e morire con lei sopra di lei e sotto di lei in una notte di impetuosità febbreli. Quando il colonnello Aureliano Buendia riaprì il laboratorio sedotto finalmente dai pacifici incanti della vecchiaia Aureliano II pensò che sarebbe stato un buon affare dedicarsi alla fabbricazione di pesciolini d'oro. Trascorse molte ore nella stanzetta soffocante osservando come le dure lamine di metallo lavorate dal colonnello con la pazienza inconcepibile del disinganno si trasformavano a poco a poco in squame dorate. L'occupazione gli sembrò così laboriosa ed era così insistente e incalzante il ricordo di Petra Cotès che in capo a tre settimane scomparve dal laboratorio. Fu in quell'epoca che a Petra Cotès venne l'idea di fare la riffa coi conigli. Si riproducevano e ingrossavano con tanta rapidità che lasciavano appena il tempo di vendere i numeri della riffa. Sulle prime Aureliano II non badò alle allarmanti proporzioni della proliferazione ma una notte quando ormai nessuno nel villaggio voleva sentir parlare delle riffe di conigli sentì uno strepito nel patio. Non spaventarti disse Petra Cotès sono i conigli. Non poterono più dormire tormentati dal trafficare degli animali. Quando spuntò il giorno Aureliano II aprì la porta e vide il patio pavimentato di conigli azzurri nello splendore dell'alba Petra Cotès ridendo a crepapelle non resistette alla tentazione di fargli uno scherzo. Questi sono nati stanotte disse che spavento disse lui perché non provi con le vacche? Pochi giorni dopo cercando di sgomberare il patio Petra Cotès cambiò i conigli con una vacca che due mesi più tardi partorì dei trigemini. Così cominciarono le cose dal giorno alla notte Aureliano II fu padrone di terre e di mandrie e non gli rimaneva tempo che per allargare scuderie e porcili straripanti. Era una prosperità delirante di cui lui stesso era il primo a ridere e non poteva fare a meno di assumere atteggiamenti stravaganti per scaricare il suo buon umore. Scostatevi vacche che la vita è breve gridava. Ursula si chiedeva in che trappolerie si era cacciato se non stava forse rubando se non aveva finito per diventare ladro di bestiame e ogni volta che lo vedeva stappare champagne per il puro piacere di bagnarsi di spuma la testa gli rimproverava urlando lo spreco. Lo infastidi tanto che un giorno in cui si era svegliato con un umore smargiasso Aureliano II comparve con una cassa di denaro un secchio di colle e un pennello e cantando a squarciagola le vecchie canzoni di Francisco e l'Ombre tappezzò la casa di dentro e di fuori e da sotto in su con biglietti da un peso. L'antica Magione dipinta di bianco fin dai tempi in cui portarono la pianola acquistò l'aspetto ambiguo di una moschea in mezzo allo scompiglio della famiglia allo scandalo di Ursula al giubilo del popolo che invase la strada per assistere alla glorificazione dello scialo Aureliano 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 la vita di rifarti su di noi di questo sperpero le sue preghiere furono esaudite in senso contrario in effetti uno degli operai che staccava i biglietti urtò con disattenzione in un enorme San Giuseppe di gesto che qualcuno aveva lasciato nella casa negli ultimi anni della guerra e la statua vuota cadde a terra e si frantumò era imbottita di monete d'oro nessuno si ricordava a chi avesse portato quel santo a grandezza naturale lo hanno portato tre uomini spiegò Amaranta mi hanno chiesto di conservarlo finché smetteva di piovere e io gli ho detto che lo mettessero lì nell'angolo perché nessuno ci andasse addosso e lì lo hanno messo con tutti i riguardi e lì è rimasto da allora perché non sono mai più tornati a prenderselo negli ultimi tempi Ursula gli aveva acceso delle candele e gli si inginocchiava davanti senza sospettare che invece di un santo stava adorando quasi 200 kg d'oro la tardiva prova della sua involontaria idolatria aggravò la sua afflizione sputtò sullo spettacolare mucchio di monete lo mise in tre sacchi di tela e lo sotterrò in un luogo segreto in attesa che prima o poi i tre sconosciuti venissero a reclamarlo molto tempo dopo nei difficili anni della sua decapitezza Ursula osava intervenire nelle conversazioni dei numerosi viaggiatori che allora passavano per casa e chiedeva loro se durante la guerra non avessero lasciato lì un San Giuseppe per quando avesse smesso di piovere queste cose che tanto costernavano Ursula erano abituali in quei tempi ma Condo naufragava in una prosperità da miracolo le case di argilla e di canna selvatica dei fondatori erano state sostituite con costruzioni di mattoni con persiane di legno e pavimenti di cemento che rendevano più sopportabile il caldo soffocante delle due del pomeriggio dell'antico villaggio di Giuseppe Arcadio Buendia rimanevano a quei tempi soltanto i mandorli polverosi destinati a resistere alle circostanze più ardue e il fiume dalle acque di Afane le cui pietre preistoriche furono polverizzate dalle mazze impazzite di Giuseppe Arcadio II quando si ostinò a voler spianare il letto per creare un servizio di navigazione fu un sogno delirante paragonabile appena a quelli del suo bisnonno perché il letto pietroso e i numerosi ostacoli della corrente impedivano il transito da Macondo fino al mare ma Giuseppe Arcadio II in un imprevisto accesso di temerarietà si incaparbì nel progetto fino a quel momento non aveva dato alcuna mostra di fantasia tranne la sua precaria avventura con Petra Cotes non lo si era mai visto con donne Ursula lo considerava l'esemplare più smorto che avesse prodotto la famiglia in tutta la sua storia incapace di farsi valere nemmeno come attaccabrighe di arene di galli quando il colonnello Aureliano Buendia gli raccontò la storia del galeone spagnolo incagliato a 12 chilometri dal mare il cui scafo carbonizzato aveva visto lui stesso durante la guerra il racconto che a tanta gente per tanto tempo era sembrato fantastico fu una rivelazione per Giuseppe Arcadio II vendette i suoi galli al miglior offerente reclutò uomini e comprò utensili e si impuntò nella iperbolica impresa di rompere pietre scavare canali sbarazzare scogli e perfino livellare cataratte questo lo so ormai a memoria gridava Ursula è come se il tempo continuasse a girarci in giro e fossimo tornati al principio quando ritenne che il fiume fosse navigabile Giuseppe Arcadio II fece a suo fratello un rapporto dettagliato dei suoi piani e questi gli diede il denaro di cui aveva bisogno per la sua impresa sparì per parecchio tempo correva già voce che il suo progetto di comprare un battello non fosse altro che un pretesto per darsela a gambe con i soldi di suo fratello quando si sparse la notizia che una strana nave si stava avvicinando al villaggio gli abitanti di Macondo che ormai non ricordavano più le imprese colossali di Giuseppe Arcadio Buendia si precipitarono sulla riva e si stettero con occhi esterefatti di incredulità all'arrivo del primo e ultimo battello che mai attraccò nel villaggio non era altro che una zattera di tronchi trascinata con grosse funi da venti uomini che camminavano sulla riva sulla prua con una luce di soddisfazione nello sguardo Giuseppe Arcadio II dirigeva la dispendiosa manovra assieme a lui arrivava un gruppo di splendide matrone che si proteggevano dal sole ardente con vistosi ombrellini e tenevano sulle spalle bellissimi fazzolettoni di seta e unguenti colorati sulla faccia e fiori naturali tra i capelli e serpenti d'oro sulle braccia e diamanti nei denti la zattera di tronchi fu l'unico veicolo che Giuseppe Arcadio II riuscì a far rimontare fino a Macondo e solo per una volta ma non riconobbe mai il fallimento della sua impresa bensì proclamò la sua prodezza come una vittoria della volontà rese conti scrupolosi a suo fratello e ben presto tornò a immergersi nel trantran dei Galli l'unica cosa che rimase di quella sventurata iniziativa fu il soffio di rinnovamento che portarono le matrone francesi le cui arti magnifiche cambiarono i metodi tradizionali dell'amore il cui senso del benessere sociale sgominò l'antiquata bottega di Catarino e trasformò la strada in un bazar di lanterne giapponesi e organetti nostalgici furono loro le promotrici del carnevale sanguinoso che per tre giorni precipitò macondo nel delirio e la cui unica conseguenza durevole fu di aver dato a Aureliano II la possibilità di conoscere Fernanda del Carpio Remedios la bella fu proclamata regina Ursula che tremava di fronte alla bellezza inquietante della bisnipote non poté impedire l'elezione fino allora era riuscita a non farla uscire in strada tranne che per andare a messa con amaranta ma la costringeva a coprirsi la faccia con uno scialle nero gli uomini meno devoti quelli che si travestivano da preti per celebrare messe sacrileghe nella bottega di Catarino frequentavano la chiesa con l'unico proposito di vedere anche solo per un attimo il viso di Remedios la bella della cui avvenenza leggendaria si parlava con un fervore rimescolante in tutta la palude passò molto tempo prima che ci riuscissero e meglio sarebbe stato per loro che l'occasione non fosse mai giunta perché la maggior parte degli indiscreti non poté mai più recuperare la tranquillità del sonno l'uomo che la rese possibile un forestiero perse per sempre la pace si intricò nelle sabbie mobili dell'abiazione della miseria e anni dopo fu fatto a pezzi da un treno notturno quando si addormentò sui binari dal momento in cui lo si vide in chiesa con un vestito di velluto verde un panciotto ricamato nessuno mise in dubbio che veniva da molto lontano forse da una remota città dell'estero richiamato dal fascino magico di Remedios la Bella era così bello così gagliardo e sicuro di sé con una presenza così ben esibita che Pietro Crespi al suo lato sarebbe sembrato un settimino e molte donne mormoravano tra sorrisi di dispetto che lo scialle sarebbe stato meglio a lui non bazzicò con nessuno a Macondo compariva allo spuntare della domenica come un principe di fiaba su un cavallo con staffe d'argento e gualdrappe di velluto e lasciava il villaggio dopo la messa era tale il potere della sua presenza che dalla prima volta che lo si vide nella chiesa tutti diedero per scontato che tra lui e Remedios la Bella si fosse stabilito un duello tacito e stretto un patto segreto una sfida irrevocabile il cui apogeo non poteva essere soltanto l'amore ma anche la morte la sesta domenica il cavaliere apparve con una rosa gialla in mano ascoltò la messa in piedi come faceva sempre e alla fine intralciò il passo a Remedios la Bella e le offrì la rosa solitaria lei la ricevette con un gesto naturale come se fosse stata preparata a ricevere quell'omaggio e allora scoprì il volto per un istante e lo ringraziò con un sorriso non fece altro ma non soltanto per il cavaliere bensì per tutti gli uomini che ebbero lo sfortunato privilegio di viverlo quello fu un istante eterno il cavaliere faceva avvenire da loro la banda di una musica vicino alla finestra di Remedios la Bella e spesso fino allo spuntare del giorno Aureliano II fu l'unico che provò per lui una compassione cordiale e cercò di piegare la sua perseveranza non perda più il tempo gli disse una notte le donne di questa casa sono peggio delle mule gli offrì la sua amicizia lo invitò a fare il bagno nello champagne cercò di fargli capire che le femmine della sua famiglia avevano viscere di selce ma non riuscì a vulnerare la sua ostinazione esasperato dalle interminabili notti musicali il colonnello Aureliano Buendia lo minacciò di curargli l'afflizione a pistolettate nessuno lo fece desistere tranne il suo stesso e lamentevole stato di demoralizzazione da prestante impeccabile che era si trasformò in abbietto e straccione si sussurrava che avesse abbandonato potere e fortuna nella sua lontana nazione ma in realtà non si seppe mai la sua provenienza si fece uomo litigioso attaccabrighe d'austeria e il giorno lo sorprese a rivoltarsi nelle sue stesse secrezioni nella bottega di Catarino la cosa più triste del suo dramma era che Remedios la Bella non gli badava nemmeno quando si presentava in chiesa vestito da principe accettò la rosa gialla senza la minima malizia ma divertita piuttosto per la stravaganza del gesto e si alzò lo scialle non per mostrarsi ma per guardarlo meglio in faccia in realtà Remedios la Bella non era un essere di questo mondo pur molto avanti nella pubertà Santa Sofia della Piedada doveva ancora farle il bagno e vestirla anche quando seppe badare a se stessa bisognava sorvegliarla perché non disegnasse pupazzetti sui muri con un bastoncino intinto nella sua stessa cacca compì vent'anni senza saperne leggere né scrivere né servirsi delle posate a tavola e girava nuda per la casa perché la sua natura si opponeva a qualsiasi tipo di convenzionalismo quando il giovane comandante della guardia le dichiarò il suo amore lo respinse semplicemente perché fu sorpresa dalla sua frivolezza pensa un po' come è stupido disse dalla maranta dice che sta morendo per me come se io fossi una colica del miserere quando in effetti lo trovarono morto vicino alla sua finestra Remedios la bella confermò la sua impressione iniziale vedete commentò era proprio un sempliciotto sembrava che una lucidità penetrante le permettesse di vedere la realtà delle cose più in là di qualsiasi apparenza quella almeno era l'opinione del colonnello Aureliano Buendia per il quale Remedios la bella non era affatto una ritardata mentale come si credeva bensì tutto il contrario è come se facesse ritorno da venti anni di guerra soleva dire Ursula da parte sua ringraziava Dio per aver premiato la famiglia con una creatura di una purezza eccezionale ma allo stesso tempo la turbava la sua bellezza perché le sembrava una virtù contraddittoria una trappola diabolica nel bel mezzo del candore fu per questo che decise di segregarla dal mondo di preservarla da ogni tentazione terrena senza sapere che Remedios la bella già fin dal ventre di sua madre era in salvo da qualsiasi contagio non le venne mai in mente l'idea che potessero eleggere la regina di bellezza nel pandemonio di un carnevale ma Aureliano II elettrizzato dal ghiribizzo di travestirsi da tigre portò padre Antonio Isabel nella casa perché convincesse Ursula che il carnevale non era una festa pagana come diceva lei bensì una tradizione cattolica finalmente convinta anche se a malincuore diede il consenso per l'incoronazione la notizia che Remedios Buendia sarebbe stata la sovrana della festa varcò in poche ore i confini della palude giunse fino a lontani territori dove si ignorava l'immenso prestigio della sua bellezza e suscitò l'inquietudine di coloro che consideravano ancora il suo cognome come un simbolo della sovversione era un'inquietudine infondata se qualcuno si doveva ritenere inoffensivo in quell'epoca era l'invecchiato e disilluso colonnello Aureliano Buendia che a poco a poco aveva perduto ogni contatto con la realtà della nazione rinchiuso nel suo laboratorio il suo unico rapporto con il resto del mondo era il commercio dei pesciolini d'oro uno dei vecchi soldati che avevano sorvegliato la sua casa nei primi giorni della pace andava a venderli nei villaggi della palude e tornava a carico di monete e di notizie che il governo conservatore diceva con l'appoggio dei liberali stava riformando il calendario in modo che ogni presidente rimanesse cento anni al potere che finalmente si era firmato il concordato con la santa sede e che era venuto da Roma un cardinale con una corona di diamanti e su un trono d'oro massiccio e che i ministri liberali si erano fatti ritrarre in ginocchio in atto di baciargli l'anello che la subrette di una compagnia spagnola di passaggio della capitale era stata sequestrata nel suo camerino da un gruppo di uomini mascherati e la domenica dopo aveva ballato nuda nella residenza estiva del presidente della repubblica non parlarmi di politica gli diceva il colonnello noi ci occupiamo di vendere pesciolini le dicerie del pubblico che il colonnello non volesse sapere nulla della situazione politica del paese perché stava arricchendosi col suo laboratorio provocarono le risate di Ursula quando giunsero al suo orecchio col suo terribile senso pratico lei non poteva capire quale fosse il guadagno del colonnello che cambiava i pesciolini con monete d'oro e poi trasformava le monete d'oro in pesciolini e così via di modo che era costretto a lavorare sempre di più a mano a mano che aumentavano le vendite per soddisfare un esasperante circolo vizioso in verità ciò che gli interessava non era il guadagno ma il lavoro aveva bisogno di tanta concentrazione per incastrare squami incastonare i minuscoli rubini negli occhi laminare branchie e montare pinne che non gli restava un solo vuoto da riempire con la delusione della guerra così assorbente era l'attenzione che gli richiedeva la raffinatezza del suo artigianato che in poco tempo invecchiò più che in tutti gli anni di guerra e la posizione gli piegò la spina dorsale e la millimetria gli sciupò la vista ma la concentrazione implacabile lo premiò con la pace dello spirito l'ultima volta che lo si vide badare a qualche faccenda collegata alla guerra fu quando un gruppo di veterani di entrambi i partiti sollecitò il suo appoggio per l'approvazione delle pensioni vitalizie sempre promesse e sempre al punto di partenza dimenticatevene disse loro il colonnello vedete bene che io ho rifiutato la mia pensione per levarmi il tormento di stare ad aspettarla fino alla morte sulle prime il colonnello Gerineldo Marquez lo veniva a trovare verso sera e i due vecchi si sedevano sulla porta di strada a rievocare il passato ma Amaranta non poté sopportare i ricordi che le suscitava quell'uomo stanco che la calvizie precipitava nell'abisso di una vecchiaia prematura e lo tormentò con scortesie ingiuste finché non tornò più tranne che in occasioni speciali e finalmente sparì annullato dalla paralisi taciturno silenzioso insensibile al nuovo soffio di vitalità che faceva tremare la casa il colonnello Aureliano Buendia comprese a malapena che il segreto di una buona vecchiaia non era altro che un patto onesto con la solitudine si alzava alle 5 dopo un sonno superficiale beveva nella cucina la sua eterna scodella di caffè amaro schiudeva per tutto il giorno nel laboratorio e alle 4 del pomeriggio passava per il porticato trascinando uno sgabello senza badare neppure all'incendio dei rosai o allo splendore dell'ora o alla impavidità di amaranta la cui malinconia faceva un rumore di marmitta perfettamente percepibile verso sera e si sedeva sulla porta di strada finché glielo consentivano le zanzare qualcuno si azzardò una volta a turbare la sua solitudine come sta colonnello gli disse passando così rispose aspetto che passi il mio funerale di modo che l'inquietudine causata dalla riapparizione pubblica del suo cognome a proposito del regno di Remedios la Bella mancava di fondamento reale molti ciò malgrado non lo credettero ignara della tragedia che la minacciava la folla invase la piazza pubblica in una turbolenta manifestazione di allegria il carnevale aveva raggiunto il suo più alto grado di pazzia Aureliano II aveva realizzato finalmente il suo sogno di travestirsi da tigre e girava felice tra la ressa smisurata rocco dal tanto roncare quando apparve lungo la strada della palude una numerosa mascherata che portava su una lettiga dorata la donna più affascinante che avrebbe potuto concepire la fantasia per un momento i pacifici abitanti di Macondo si tolsero le maschere per vedere meglio l'abbagliante creatura con corona di smeraldi e cappa di ermellino che sembrava investita di un'autorità legittima e non di una sovranità di lustrini e di carta crespata non mancò chi avesse sufficiente chiaroveggenza da sospettare che si trattava di una provocazione ma Aureliano II superò immediatamente la perplessità dichiarò ospiti d'onore gli ultimi arrivati e collocò salomonicamente Remedios la Bella e la regina intrusa sullo stesso piedistallo fino a mezzanotte i forestieri travestiti da beduini parteciparono al delirio e lo arricchirono inoltre con una pirotecnica sontuosa e con abilità acrobatiche che fecero pensare alle arti degli zingari improvvisamente nel parossismo della festa qualcuno ruppe il delicato equilibrio viva il partito liberale gridò viva il colonnello Aureliano Buendia le scariche di fucileria soffocarono i bagliori dei fuochi artificiali e gli urli di terrore soffocarono la musica e il giubilo fu annichilito dal panico molti anni dopo si sarebbe continuato ad affermare che la guardia reale della sovrana intrusa era uno squadrone dell'esercito regolare che sotto i suoi ricchi baracani nascondeva fucili d'ordinanza il governo respinse l'accusa con un bando straordinario e promise un'indagine rigorosa del cruento episodio ma la verità non venne mai a galla e prevalse per sempre la versione che la guardia reale senza provocazione di nessuna indole aveva preso posizione di combattimento a un segnale del suo comandante e aveva sparato senza pietà sulla folla quando si ristabilì la calma i falsi beduini erano spariti dal villaggio e lunghi distesi sulla piazza erano rimasti tra morti e feriti nove pagliacci quattro colombine diciassette re di coppe un diavolo tre musicanti due pari di francia e tre imperatrici giapponesi nella confusione del panico giosè arcadio secondo riuscì a mettere in salvo remedio slabella e aureliano secondo portò in braccio in casa la sovrana intrusa col vestito stracciato e la cappa di ermellino in zaccherata di sangue si chiamava fernanda del carpio l'avevano scelta come la più bella tra le 5.000 donne più belle del paese e l'avevano portata a macondo promettendole di nominarla regina del madagascar ursula si occupò di lei come se fosse una figlia il villaggio invece di mettere in dubbio la sua innocenza compatì il suo candore sei mesi dopo il massacro quando guarirono i feriti e si appassirono gli ultimi fiori sulla fossa comune aureliano secondo andò a cercarla nella lontana città dove viveva con suo padre e la sposò a macondo in una baldoria fragorosa che durò venti giorni pensi senti un nodo è un giro pensi